Il Paradisi delle Signore 8, anticipazioni puntata del 10 novembre 2023, i Colombo fanno la loro celta. Vittorio è sorpreso. Nella puntata del Paradisi delle Signore in onda su Rai 1 il 10 novembre 2023, alle ore 16,00, Prezio e Gloria arriverà il grande giorno. Le anticipazioni dell'episodio della SOP ci rivelano che i Colombo staranno per celebrare in loro matrimonio ma prima della cerimonia. Riveleranno a Vittorio di aver preso la loro decisione sul futuro della Tessuti Silva. Cosa avranno deciso? Vito intanto continuerà a interrogarsi su cosa dovrebbe fare con Maria e con la loro relazione mentre Marcello, di ritorno dalla Svizzera, racconterà a Salvatore come è andato il suo incontro con Adelaide. Fiorenza scoprirà con un certo stupore che Flora si è candidata a nuova presidentessa del circolo mentre Vittorio. Di ritorno dalla festa dei Colombo, si ritroverà al Paradiso a ripensare al momento in cui lui e Matilde hanno ballato da soli. Anticipazioni il Paradisi delle Signore, Ezio e Gloria prendono la loro decisione sulla Tessuti Silva Ezio e Gloria. Hanno deciso di sposarsi di nuovo ma anche di valutare la proposta di Fiorenza, di rilevare la loro azienda. Questo particolare ha deluso Matilde, che ha cercato in Tancredi una spalla su cui confidarsi e rivelare tutto il suo disappunto. La Frigerio non può certo sapere che suo marito è la causa di tutto quello che sta succedendo e che è? Per colpa sua che i Colombo si sono trovati a dover prendere una decisione, che rischia di creare grandi problemi a Vittorio. Nella puntata del 10 novembre 2023, i due sposini, prima della cerimonia, riveleranno al conti cosa avranno scelto di fare con la loro azienda e dovremo aspettare tutto con le dita incrociate. Che succederà dopo il matrimonio? Anteprima Ladies Paradise, Marcello ritorna dalla Svizzera Marcello non sopporta l'assenza di Adelaide. Dopo aver confessato a Salvo che gli manca la contessa, decide di andare in Svizzera per stare con lei. Nella puntata, che andrà in onda il 10 novembre 2023, Barbieri tornerà a Milano e racconterà ai suoi amici l'accaduto. Saranno buone novità o lo vedremo cadere ancora di più? Nel frattempo Vito deve ancora prendere delle decisioni sul suo futuro e sul suo matrimonio con Maria. L'amantia sceglierà di restare a Milano, oppure tornerà in Australia e romperà definitivamente con Puglissi. Che non ha alcuna intenzione di seguirlo davvero. Trame e anticipazioni il paradisi delle signore. Fiorenza scopre che Flora si è candidata come presidentessa. Fiorenza ha accettato di collaborare con Tancredi e ha scoperto che dietro al piano del di Santerasmo. La Gramini potrebbe però voltare le spalle ai due, dopo aver scoperto che Flora si è candidata a presidentessa del circolo. Si celano i preziosi consigli di Umberto. Alla nemica di Adelaide non piacerà per nulla questa alzata di testa della stilista e potrebbe persino volergliela far pagare. Intanto Vittorio, finita la festa dei Colombo, tornerà al paradiso e si lascerà andare ai ricordi della serata in cui lui e Matilde hanno ballato insieme.